Una malattia seria. La voce interiore, attraverso Roberta S. Sabaudia, guide. Siamo stati chiari? Domanda. Sì, abbastanza. Anche se non ho compreso questa cosa degli stimoli delle malattie o cose del genere, che sono stimoli per collegarci alla nostra anima. Se noi abbiamo problemi grossi, tipo una malattia seria, siamo talmente presi nel cercare di superare questa malattia che non ci rendiamo conto di stimoli o altro che possano servire per superarla. Risposta. E invece dovreste rendervi conto di quanto tutto sia uno stimolo e di quanto a volte è necessario un forte richiamo per ritrovare voi stessi, perché a volte i richiami non vengono ascoltati se non assumono delle forme eclatanti. Allora sappiate pure vivere nella semplicità, sappiate apprezzare il sole che sorge ogni mattina alle nuvole del cielo, sappiate vedere la bellezza di ogni attimo, dei particolari che non sono poi tanto piccoli e che fanno parte della vostra strada. Siete spesso proiettati in grossi pensieri, in grosse ambizioni e vi dimenticate di guardare quello che è reale. I fiori del vostro giardino sono reali, hanno bisogno del vostro sorriso per sentirsi accettati nel vostro ambiente. Sappiate donare quel sorriso. Le persone che incontrate scambiano energia con voi, anche un solo sguardo è un forte scambio energetico, sia il vostro sguardo uno sguardo di pace, di fratellanza. Sappiate donare la vostra forza a chi incontrate, la vostra vibrazione può migliorare il vostro ambiente.